Musica Bella a tutti belli e brutti ragazzuoli benvenuti in questo nuovo video Io sono Tortello e quest'oggi ragazzi è un giorno importantissimo Perché è uscito il nuovo brawler ragazzi è uscito il pazzo Carl E come potete ben vedere mi sono messo da parte abbastanza bauli da aprire Quindi direi di iniziare subito con il cammino dei trofei Andiamo a aprire subito la cassa enorme Così live via 62 d'oro, Brock, Jesse Vediamo se la super seller ragazzi ci regala il nuovo brawler Vediamo se ci vuole regalare anche qualcos'altro come vi pare Come vi pare non è un problema Apriamo oro ecco cassa normale, Beryl, Bull, niente di che Sto per sbloccare Dinamai che ragazzi è veramente forte Sto ecco 1860 piano piano Bene, si inizia, si inizia 60 casse per loro Monede, Brock, Pam Lo schifo Si prosegue Monede, Jesse e il primo Biglietti e venti Vediamo, vediamo, vediamo Monede, Colt Piper, Piper che ci serve sempre Biglietti e venti Si continua, si continua Vediamo, vediamo Frank, Brock Ragazzi facciamo veloci Allora ogni 10 apro la cassa gigante Non so, sono un po' scaramantico su queste cose Quindi vediamo, vediamo Bene, bene, Colt Vabbè intanto si prende oro Prendiamo carte nuove Penny, Beryl E ticket Ma i bauli tutti uguali Oh, un attimo di rallentamento Niente, niente È stato un attimo di emozione Che è subito svanita Shelly, Shelly Via, via Ruota ragazzi Cioè non potete capire Così tanti Via Mega cassa E Tuff Si apre 50 di oro Bombardino Nita Shelly più 30 E niente Allora si continua a proseguire Via, 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 via Nita Piper, Piper Bene Rallentamento Oro Oro Bombardino Stecca Ragazzi Io l'ho visto Il brawler nuovo Secondo me È pauroso Adesso se Il dio della Supercell Si vuole comportare bene E farci trovare qualcosa di utile Perché altrimenti Non andiamo d'accordo ragazzi Non andiamo d'accordo Cioè non Non va Non va Niente, niente Jesse Stecca Penny Colt Dai, dai, dai Carlo Esci fuori Carlo Esci fuori Vieni da noi Vieni da noi Piccolino Beryl Penny Ragazzi Ragazzi Qui è malvagio Malvagio Pocho Piper Niente Raddoppiaggettoni Raddoppiaggettoni A questo punto Fammi trovare Gemi Cioè Vabbè comunque Se ragazzi lo dico Se non lo trovo In nessuna cassa Di queste Lo compro Cioè perché non è possibile Lo compro Perché Nel senso Non ce ne frega nulla Vediamo Vediamo Beryl La ruota Veramente Beryl Una condanna Supercell Non stiamo andando bene Non stiamo andando bene Abbiamo una mega cassa 80 gem Nita 80 d'oro Scusate Piper Piper bene Oh mio dio Mamma mia ragazzi Abbiamo trovato Mortis Mi sento male Mi sento male Il pazzo Mortis Compio uno scatto in avanti Con ogni palata Che sferra Grazie alla super Evoca dei pipestrelli Che la curano Mentre attacchi Poveri malcapitati Bene Benissimo Direi benissimo Abbiamo sbloccato Mortis Beh cioè Se mi hai fatto sblocca Mortis Obbligatoriamente Mi devi far sbloccare Anche il pazzo Carl Cioè Non ce credo Ce credo Abbiamo sbloccato Mortis Bene Bene Solo per questo Doveste spolliciare Solo per questo Per questa botta di culo Che però Finisce qui No eh Dobbiamo trovarla Dobbiamo trovarlo Dobbiamo trovarlo Pam Niente Dai ragazzi Su 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 Vi voglio con me Vi voglio con me ragazzi Eh perché Frank Niente 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 Abbiamo perso Abbiamo fatto quella scurata iniziale Eh il pazzo Mortis E poi Carletto non si trova Bene Mortis Bene Con quella faccia Mmm 35 Ancora Ancora abbiamo possibilità Ragazzi eh Abbiamo possibilità Certo Io avrei voluto trovare Il pazzo Carlo Però Questo no C'è Vai 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 Viper Jesse Niente Niente Abbiamo ancora Tre megacassi ragazzi Quindi stiamo attenti Stiamo attenti Che ancora c'è possibilità Certo Se continuo a darmi due scelte Così Eh le possibilità Si azzerano Malissimo Una solita spiega Una solita spiega Jesse Biglietti a 20 Mamma mia 30 Mortis Va bene Nita Gettoni Per due Ok Non mi sono sbagliato Dove aprire la megacassa Mmm Allora abbiamo adesso 30 Via Megacassa per loro 63 di oro Shelly E il primo Berril Mamma mia Berril Che brutta costante Che brutta costante Ce la stiamo facendo? Nita E il primo Niente ragazzi Niente Non dobbiamo verso gli ultimi 10 Uscire al mondo Me lo sento Me lo sento proprio qui Me lo sento qui Dai Dai Ambre Frank Bombardino Va bene Va bene Eh ragazzi Comunque si ha Cioè Si è trovato Mortis Mortis pure Carta mitica Quindi Nel senso Va bene Però Vorrei sculicchiare Un po' di più Dai di sculo Torti Vai Vai 16 d'oro Erpocios Franchettos E niente E niente Vabbè Almeno abbiamo quasi 40 ticket Per i prossimi eventi Che comunque non è male Bombardino Jesse Ma tu guarda Che zenga Che non c'è credo Che non c'è credo Non c'è credo ragazzi Veramente Stecca Pocio Niente Abbiamo altre due casse Due mega casse da aprire Brock Ancora per due 20 Penny Bull E niente Ticket Mega cassa per loro Ancora La penultima La penultima Piper Jesse E il primo Il ticket Mamma mia Ragazzi Ragazzi comunque Non state andando forte Non mi state supportando Perché qui ecco Mi avete fatto fare la scuola iniziale E poi E poi qui Eccolo Proprio il picco Siamo andando a picco Siamo andando a stecca A beryl Cioè Lo schifo Lo schifo Allora tocco col dito sinistro Sinistro non l'ho usato fino adesso Allora adesso lo uso Così Scaramanzia Scaramanzia Un'energia Brock Jesse Biglietti e 20 Niente Niente Monete Pocio Penny Dai Carla Dai Guardate Vabbè Mortis Vabbè 3 GM Mortis è bene Ragazzi Però Io volevo Carla Carla anche perché Mortis Non sono capace A usarlo Ci ho provato Qualche volta Ma è complicato È complicato E qui comunque Non va Non va Non va Non sento nemmeno la puzza Non Non sento quel baule caldo Capito Che uno dice Eh vabbè Adesso sento quello caldo Lo trovo Invece no Niente Pam a ruota Berry Stecca Ecco Shelly Bombardino E stecca Mannaggia Pam Nita E niente Shelly Piper Biglietti e 20 Mamma mia Quello viola ragazzi La mega cassa Andiamo per ultima Andiamo per ultima E via E vediamo quello che Niente ragazzi Sto vedendo Sto vedendo proprio Andare via Carl Un miraggio Un miraggio Carletto Il pocio Nita Niente Il primo Bombardino Shelly Ragazzi Qui proprio Non sa da fare Veramente Frank Stecca Vabbè Tanto oro Tante carte Pocio Più 15 Più 30 Beryl Mortis Va bene Ultime tre casse Per loro Ragazzi Vediamo Penny Colt 5 gemme Ultime due casse Aviamo la cassa normale Mortis Va bene 320 ticket Madonna mia ragazzi L'ultima cassa L'ultima possibilità Per loro Adesso Adesso voglio il like La condivisione E il commento Adesso Perché è l'ultima Cazzo Di cassa Tuff 109 di oro Shelly Pocio Bombardino Lo schifo Bene Supercell Visto che tu Fai la stronza Con il tortello Visto che Non ti comporti bene Non ce ne frega nulla Perché adesso Noi L'andremo a comprare E ci gioco lo stesso Va bene Via 59 gemme Oh Tuff Bloccato Carl Bene Bene L'ho sbloccato L'ho sbloccato Carl lancia il suo piccone Come un boomerang Mentre con la super Rotea Ah Con la super Rotea Vorticosamente Il suo varrello E l'argento Sane picconate A chi gli sta attorno Bene Allora Faccio vedere Lo sblocco del mortis Veramente Che Forte Molto forte Però a noi non ci interessa Adesso andiamo a aprire Qualche culetto A picconate Con il pazzo Carl E direi che la modalità Di Carl È la raffa gemme Cioè me lo sento proprio La raffa gemme Via Si prova Si vuole una partitina veloce E vediamo Vediamo un attimo Giocatori trovati Non trova giocatori Non ci credo Si inizia invece Si inizia Vai ragazzi Potentissimi Bene Se abbiamo Eugenio E stecca Vediamo che riusciamo a fare Xiaoli E Tokenko Tocenko Vai Tocenko Un attimo di bug Mamma mia L'ha quasi ucciso E invece lo uccide E invece lo uccide Potentissimo E ragazzi Comunque si ha molta vita Da quello che vedo Allora Il colpo va un po' lento Devo un attimo Ok Ok Invece Che fa Oh Oh La super La super non l'avevo Mamma mia Che spocchia ragazzi Che spocchia La super Potentissima Vabbè Per il momento Stiamo gestendo bene Poi il carrellino Lì con gli occhialetti Mi piace molto Secondo me Avrò molta Come si dice No Aspettate un attimo Mamma 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 Qui Oh Allora ragazzi Diciamo che il colpo Va leggermente Predictato un po' prima Cioè nel senso Ho capito Visto che parte lenta Devi un attimo Capire Come va la posizione Dell'avversario Eh Eh però La final È brutale Cioè la final È proprio brutale Mamma mia Qui Che giocata Che giocata E qui Lo porto via Oh No Eh Eh ragazzi Ho fatto la giocata d'oro Però Bene Xiaoli Vai Xiaoli No No Qui l'ho fagliata Ma guarda la miseria Ragazzi Un pollo No eh Vai Xiaoli Un pollastro Anche te Non moriamo Non moriamo Non moriamo Ragazzi Via 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 Oh Che sta succedendo Un attimo di bug 3 2 1 E niente Abbiamo perso Bene Bene Abbiamo Abbiamo perso Però ce la siamo giocata bene Ce la siamo giocata bene Secondo me Carle ragazzi Ne vale la pena Ne vale veramente la pena Adesso esco Va bene Ho finito tutti i bauli Però almeno Abbiamo trovato Due nuovi brawler Che non sono male Quindi ragazzi Direi che per questo video È tutto Lasciate un commentino Qui sotto Di cosa ne pensate Comunque di Carle Se voi l'avete trovato Non l'avete trovato Che altri brawler Comunque preferite Fatemelo sapere Nei commenti Lasciate un bel like Per supportarmi Condividete il video Con i vostri amici E nulla ragazzi Per questo video è tutto Bella Da me Da Tortello Dal pazzo Carla Ciao a tutti i nostri amici 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 Ciao a tutti i nostri amici